Buongiorno a tutti cari amici e buon lunedì! E' tornato in onda il programma di Maria De Filippi, C'è posta per te, e già da subito ha fatto discutere. Tra tutte le storie proposte c'è stata anche quella di Giuseppe e Francesca, una coppia che ha dovuto superare una prova molto difficile. Giuseppe è infatti stato vittima di un incidente domestico e la sua compagna Francesca gli è stata accanto per molto tempo. Per ricompensarla di tutti i sacrifici fatti, Giuseppe ha scritto dunque alla redazione per fare incontrare a Francesca il suo attore preferito, Can Hamann. Immaginatevi l'effetto sorpresa e la reazione di Francesca quando ha visto arrivare il bellissimo attore turco. Can, inoltre, le ha regalato una collanina e si è complimentato con lei per la sua forza. Le ha anche regalato dei giocattoli per i bambini della coppia. Nonostante tutte queste belle emozioni, però, questa storia ha ricevuto anche delle critiche. In primis si è rimproverato di aver ospitato l'attore turco per la quarta volta di seguito nelle edizioni di Ceposta per te. Un utente su Instagram ha addirittura affermato che quelle del programma sarebbero tutte storie scritte a tavolino. Sarà così? Noi non lo sappiamo, però ci piace a volte credere a qualche storia di valore. Alla prossima! Ciao! Ciao!